Regalati la prevenzione è l'iniziativa promossa dall'ASL Napoli 3 Sud e dal comune di Torre del Greco. Ieri pomeriggio nella sala della Santissima Trinità un convegno rivolto alla promozione delle attività di screening in programma sabato 11 maggio. Al tavolo dei relatori il direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud Giuseppe Russo il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella e la vicepresidente del consiglio regionale della Campania Loredana Raia. Un'occasione per parlare di salute e prevenzione e dell'importanza della rete sul territorio. Nel corso della serata il direttore generale ha annunciato anche importanti novità che riguarderanno l'ospedale di Torre del Greco. Direttore generale Russo oggi qui un convegno per parlare di salute e per lanciare la prossima iniziativa sabato 11 regalati la prevenzione. È un momento importante perché permette di avvicinare la sanità di fare salute sul territorio bisogna partire dal territorio per dare una risposta di buona salute e per fare prevenzione. La prevenzione è importante è il primo momento necessario tra un incontro tra operatori sanitari e cittadini. Siamo a Torre del Greco parliamo dell'ospedale Maresca, lei prima diceva che il giorno 16 ci sarà l'inaugurazione di un importante ambulatorio. Il giorno 16 noi abbiamo un open day per un ambulatorio di riabilitazione del pavimento pelvico aperto a tutti gli uomini e alle donne non solo di questa città ma a quanti interessati. È un momento importante perché con le attività ambulatoriali si fa un percorso utile di servizio sanitario alla popolazione. È importante venire, è importante partecipare. Per quanto riguarda invece i sei posti di osservazione breve e intensiva? Siamo alle battute finali, la ditta incaricata dei lavori penso consegnerà a fine mese i locali e di qui a poco andremo ad offrire un altro servizio all'utenza che afferisce all'ospedale Maresca. Secondo le intenzioni dell'azienda si punta un potenziamento soprattutto delle attività ambulatoriali? Bisogna puntare alle attività ambulatoriali ma anche e soprattutto dare risposte quali quantitativi per i ricoveri di decenza per quelle che sono le specialità previste nell'atto aziendale a favore dell'ospedale Maresca. Lei prima parlava di rete, di medicina di base ma da questo punto di vista le carenze sono tante? Diciamo che viviamo un momento particolare perché c'è la cronica ormai carenza, io dico nazionale, di medici di base, specialisti ospedalieri ma soprattutto quelli della rete emergenza-urgenza penso a medici di pronto soccorso, penso agli anestesisti, penso agli ortopedici e purtroppo viviamo un momento particolare ma comunque dobbiamo andare avanti ci dobbiamo rimboccare le maniche e cercare di fare di più questo è possibile con l'ausilio di ogni operatore professionale, di ogni specialista per fare rete, lavorare in squadra e dare la migliore risposta a un bisogno di salute dei cittadini. Loredana Raia, vicepresidente del Consiglio regionale, stasera qui a Torre del Greco si parla di salute e prevenzione. Sì, una buona iniziativa per fare promozione della salute e prevenzione con gli screening che ci saranno l'11 di maggio organizzati dall'ASL Napoli 3 Sud con il sostegno del Comune di Torre del Greco e della Regione Campania per occuparci appunto di screening oncologici dei tumori che sono maggiormente diffusi pensando alle donne, ai tumori della cervice uterina e della mammella, agli uomini e al colon retto. Questa iniziativa spero sia accolta e partecipata dalla maggior parte delle donne della nostra comunità avevamo qui oggi i medici di medicina generale che saranno un buon veicolo per diffondere questa iniziativa e per permettere una larga partecipazione. Dalle parole del direttore generale abbiamo ascoltato anche di importanti novità che riguarderanno l'ospedale di Torre del Greco. Sì, si continua l'impegno della Regione Campania, del presidente De Luca mi permetto di dire della sottoscritta. Dal 2015 a oggi avevamo preso un impegno con questa comunità e con il comprensorio non solo di riaprire il Maresca come abbiamo fatto ma di potenziarlo e ogni iniziativa di potenziamento come l'ultima che abbiamo citato stasera cioè quella dell'inaugurazione il giorno 16 di maggio dell'ambulatorio per la riabilitazione del pavimento pelvico e quella della fine di maggio che riguarda l'ampliamento del pronto soccorso con i posti di osservazione breve e se ci mettiamo anche la riqualificazione del terzo e quarto piano con i fondi ex articolo 20 insomma stiamo anche facendo un'operazione di restyling oltre che di potenziamento di quelle che sono le attività ambulatoriali e anche prettamente ospedaliere del nostro ospedale Maresca non solo non finisce qui la nostra opera di impegno costante e quotidiano ma vogliamo fare di questo ospedale così come da impegno preso un nosocomio che sia punto di riferimento strategico per l'area sud di Napoli